Oggi giornata estremamente importante, ultima bozza Capri, un evento particolare, un evento che in qualche modo segna il nostro percorso legato ad un tema fondamentale, non solo per l'ultima bozza ma per il mondo intero, la sostenibilità. Oggi questo incontro è stato molto importante perché è un primo passo per la costruzione di un dialogo con le istituzioni locali. La sostenibilità è anche dialogo, la sostenibilità è comunicare con gli stakeholder di questo mercato e ultima bozza oggi scende in campo proprio perché c'è necessità di dialogo fra tutti gli operatori del settore.